È stato veramente pesante e quindi mi sono lasciato andare a questo sfogo. Poi l'abbraccio con i compagni di squadra è stato veramente emozionante. Sono sei anni che sono in questa squadra e con tutti i miei compagni ho veramente un rapporto speciale che va oltre il lavoro. Quindi loro in primis sanno quello che ho vissuto e mi hanno aiutato anche loro a uscire da questa situazione e non aspettavano altro che abbracciarmi per una vittoria. Me l'avevo studiata sì perché era a 260 km, speravo che i velocisti arrivassero senza gambe e così è stato. Ho preso la ruota di Gerhans che per me era quella un po' più veloce. Lui purtroppo non ha avuto gambe per spintare e è andato ben a mente. Un'altra vittoria di tappa, la Juventus la può perdere perché abbiamo già fatto grandi cose ad arrivare in finale. A questo punto l'ultima? Devo dire che speravo, comunque la condizione arrivava velocemente. Devo dire che l'ultima gara all'inizio era stato abbastanza traumatico con i Paesi baschi e classi che però veramente mi sono servito per trovare la migliore condizione. Non sono al 100% ma oggi penso che più le gambe... Quando sono arrivato nel finale ho tirato fuori anche la testa e tutto e la rabbia. Quindi è stato quello, ho sopperito con quello, ho sopperito.